Ben turnati raga, qua è Savix che vi parla con la forza del pensiero e benvenuti per chi è nuovo nel canale Oggi glitch, funny, glitch simpatico di brutto ragazzi, staremo buggati nelle animazioni Quindi come potete vedere io usando sbalorditivo, sbalordito ora non ricordo bene come si chiama Ma comunque sia rimane buggato così ed è veramente veramente simpatica la cosa Potremmo guidare con la forza del pensiero Potremmo usare anche le moto ragazzi e con le moto è ancora più divertente Comunque vi spiego come farlo Allora è semplicissimo, aprite il vostro menu interazione, andate su azione e dovete mettere l'azione che volete Se volete fare anche voi questa, guidare con il pensiero ragazzi dovete usare sbalordito Una volta che avete messo sbalordito e siamo sicuri che c'è Saliamo nella macchina, ritorniamo sulla voce dell'azione E dobbiamo schiacciare triangolo e subito dopo x se giocate la play, se giocate la xbox y e subito dopo a Ma deve essere una cosa veloce raga, tipo le duplicazioni Quindi cosa faccio? Schiaccio y e subito dopo a Ragazzi e quindi i play schiacceranno triangolo e subito dopo x E sbada bam avremo buggato l'azione Fanno i glitch divertentissimo ragazzi se vogliamo fare i stupidi in sessione con gli amici E niente, per oggi è tutto e alla prossima Bella raga Ah mi raccomando lasciate un like, commentate, attivate la campanellina e mettete le notifiche su tutte Bella raga Bella raga